Con il nuovo automatismo per la contabilizzazione di fatture con IVA indetraibile, potrai rilevare più agevolmente quelle fatture di fornitori particolarmente complesse, in cui una parte del costo è soggetta ad IVA parzialmente detraibile e l'altra parte è soggetta ad esenzione. È il tipico caso, ad esempio, delle fatture relative alla telefonia. Nella tabella delle causali contabili, devi codificare una causale guidata che utilizzerai per contabilizzare le fatture con IVA indetraibile. Crea pertanto, una sottocausale della causale FR. E inserisci almeno due conti di contropartita economici. Almeno uno dei due conti, deve contenere nella propria anagrafica una liquota IVA indetraibile, con una percentuale di indetraibilità diversa da 100. Solo se hai creato la causale guidata come indicato potrai attivare l'automatismo. Per poter inserire in prima nota, una fattura con IVA parzialmente detraibile, utilizzando l'automatismo di Passpartout, devi utilizzare la causale contabile appositamente creata. In corrispondenza del conto, nella cui anagrafica è contenuta l'indetraibilità, il programma apre una videata in cui puoi visualizzare la liquota IVA indetraibile e la percentuale di indetraibilità definite nell'anagrafica del conto. Dovrai solo inserire l'imponibile e confermare. La procedura eseguirà il calcolo dell'IVA suddividendo la parte indetraibile da quella detraibile. Grazie a tutti.